L'Aquila affronta passato, presente e futuro. È il menù preparato a Rimini per il rosso-blu di Modica che proveranno ad interrompere il terribile momento negativo fatto di 5 sconfitte nelle ultime 7 gare e a dare una scossa alla classifica. A sole tre giornate dalla fine l'Aquila è infatti terz'ultima e in piena zona play-out. A ben guardare però la penalizzazione inflitta in settimana proprio al Rimini e la possibile concomitanza di risultati favorevoli in questo turno di campionato fanno sì che gli Aquilani siano al momento ancora a sole tre lunghezze dalla salvezza diretta. Potrebbero quindi bastare 9 punti da qui all'8 maggio per scacciare l'incubo play-out. Abbiamo detto di presente e immediato futuro. C'è però anche il passato. Il Rimini infatti in piena lotta play-out proprio con l'Aquila è allenata da Leonardo Acori che ai piedi del Gran Sasso è ricordato con affetto dagli Aquilani per la stagione 91-92 quando alla guida dei Rossoblu vinse il raggruppamento di Serie D ma perse poi lo spareggio per l'allora Serie C2 contro il Gualdo. I sentimentalismi però in questo caso verranno messi da parte. Entrabbe le squadre vogliono infatti a tutti i costi scongiurare gli spareggi per non retrocedere in Serie D. L'allenatore aquilano Giacomo Modica confermerà il suo 4-3-3. A Rimini al centro della difesa tornerà Giordano Maccarrone che farà coppia con uno tra Cosentini e Sanni. Sugli esterni a sinistra Piva è favorito sul Ligorio mentre sulla destra Di Mercurio è quasi certo del posto. Complice l'indisponibilità di Chiri eletti ai margini dopo quanto successo con i tifosi domenica scorsa. In mediana tornerà il croato Milicevic, l'unico in possesso di una visione di gioco di categoria superiore. A suoi lati come mezzali ci sarà spazio per due tra Bulevardi, De Francesco e Manuel Mancini. In attacco infine con Triarico out per squalifica la certezza sembra essere perna nel ruolo di Boa centrale. Ai suoi lati giocheranno due tra San Domenico, Andrea Mancini, Ceccarelli e De Sousa. Grazie a tutti.